buongiorno a tutti buon lunedì spero che avete passato un buon weekend che siete stati sereni per quello che è possibile in questo periodo un pochino particolare oggi siamo qui e ci incontriamo nuovamente per discutere un po di cose che dopo quello che ho detto la scorsa volta e che deve essere visto come uno spartiacque o qualcosa di nuovo che deve essere visto ma anche un qualcosa di ritorno all'antico all'originale tradizione della scienza monia quindi oggi appunto parlerò di questo ma darò anche qualche indicazione anche perché molte persone stanno cominciando hanno cominciato alcuni anche usciti da da me da varie corsi che hanno fatto ma che non hanno ricevuto ma iniziazione né l'autorizzazione di insegnamento perché non gli è stato comunicato il segreto e la direzione all'insegnamento stesso questo è molto importante da sapere quindi chiunque insegni insegna per fatti suoi e va bene ognuno fa quello che vuole però vi prego di non collegare assolutamente a me persone che hanno per loro scelta fatto una certa creazione di vita in internet o meno anche fuori e che possono dire che sono miei allievi non sono miei allievi hanno solamente fatto le corsi essere miei allievi significa essere nell'ordine o almeno o almeno nell'accademia e in pianta stabile quindi estremi allievi significa aver dimostrato veramente fisicamente ciò che una persona ha assorbito essere i miei allievi significa semplicemente anche riuscire a capire bene alcune cose che noto in giro non è che c'è tanto però ognuno sceglie quindi volevo dire appunto questo perché dopo l'ultima riunione che ho avuto purtroppo mi ha tenuto impegnato fino a ieri quindi a tutti voi come ho detto l'ho scritto anche persone privato da oggi ricomincio a a rispondere a chi è abilitato a questo quindi dovete semplicemente scusare ma si è allungato fino a ieri va bene quindi come dicevo anche perché non c'è non è stata data ripeto ancora trasmissione a nessuno ok quindi possono usare termini che io ho usato e che usa normalmente come nome come amonia come ascesa di qua discesa di la alchimia grande alchimia piccola scimmiotare il modo di parlare oppure altro ma ripeto ancora nessuno ha ricevuto la dispensa di insegnamento perché nessuno ha avuto la pazienza di fare le cose con una certa maniera anche altre persone che si sono messe a vendere erbe a fare distillati a fare cose a cui ho insegnato e che per carità va benissimo però liberi non dico che sono male no 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 tutti bravi immagino però non c'è collegamento con l'ordine ammonio con la 8 e con l'academy ok quindi non addebitate eventualmente a me possibili altre cose va bene sono totalmente staccati anche se hanno studiato con me per quello che sia io pratico l'alchimia grande che la mia alchimia alchimia dell'ordine da 40 anni o 60 anni ho cominciato a praticarla a 17 diciamo quindi da 40 anni ci sono chi pratica queste cose da qualche anno però ho visto oggi che c'è internet non si trova se basta mettersi le varie pagine cose varie e questo ha dato un pochino di preoccupazione a certe persone che sono persone che mi hanno mandato per parlare chiaro quindi sto parlando chiaro di tutto questo quindi andate sono bravissime persone veramente persone in gamba perché le ho conosciute che conosco sono persone veramente serie però potete imparare fare acquistare ma attenzione non sono state autorizzate dalla scienza ammonia né dall'ammonia né dal caum centro ammonio unico mondiale che è l'unico per quanto riguarda questa linea di che depositaria e quindi immaginate questo caum che raccogli tutto dentro di è l'ordine ammonio dentro di è l'ordine osirideo egizio dentro via la miriam dentro via la golden down dentro via l'alfe omega dentro via la rosa croce parirani sia d'oro sia antiche cose varie dentro vi sono c'è la fratellanza di luxor dentro che sono altre cose che non vuole che inutile andare a dire dentro c'è la hop che più fresco e quindi fatto per chi veramente vuole imparare quindi a un mentre tutte queste linee che ha detto prima sono fisse in alcune linee di educazione no dentro c'è anche c'è anche l'occhio nel senso tecniche che fu iniziato tanti anni fa quindi c'è tutto c'è dentro però non per dire la hop va a prendere meglio va a scegliere il bello per avvicinarsi e la magia sintetica di cui ho parlato e quindi all'alchimia sintetico alchimia grande e di conseguenza la strada per entrare nella op è l'academia quindi questo si è deciso per continuare vedere di continuare queste cose anche se sono rimaste un po così però qui le cose adesso io prima di parlare dell'alchimia abito che una cosa serie che quella dell'ordine è quella chiamata appunto alchimia grande appositamente vi do qualche avviso così rimane e sapete queste sono le novità della scienza monia di riccardo di la nuova mra e quindi che potete addebitare solo a me e quindi non ad altri l'ordine ha deciso che nessuno potrà più aiutarmi né ora né in futuro perché io farò da solo e lo farà l'ordine stesso con una persona deputata in questo caso a smarù che si è saputo di stricare tutte le cose seguendo la purezza della direzione e non visto che danni e quindi avendo quella durezza anche che serve e quella concentrazione che serve per poterlo fare quindi come lo facevo prima all'inizio sono tornato a farlo di nuovo adesso mi sono fatta aiutare un po perché avevo bisogno però adesso mi devo dar da fare da solo è che prima ci sono state diverse le persone che mi hanno aiutato e le ringrazio e le ringraziamo al cento per cento e ci inchiniamo in questa cosa però non ci sarà più per decisione appunto che d'ordine nascosto nel senso che sono tre persone anziane come detto andando via queste tre persone rimarrò io quindi sì e quindi mi metterà appunto una persona con cui non ha un attimo per decisione dell'ordine che sarà l'unico che metterà e quindi la persona l'unica persona che si potrà parlare di oggi e da oggi in poi oltre a me è il cancelliere innanzitutto sia a smarù attenzione che nessuno conosce il cancelliere all'ultimo l'ultimo ritiro c'erano c'è c'è una persona sedute però a livello sottile si vedevano delle persone seduti a dadi che gettavano i dati forse a smarù le tette è quello forse a smarù la quell'altro non conosce nessuno non è possibile conoscere il cancelliere perché a parte che vive in svizzera non è possibile conoscere non lo conosce nessuno non è nessuno dei miei allievi vicini non è nessuno di quelli che mi aiutava nessuno che è proprio la funzione del cancelliere essere invisibile perché a livello di tempio va ad indicare il guardiano invisibile che sempre attento come stato attento e che fai fai report va bene nessuno conosce smettete di mettere nella testa per chi è interessante o è tizio e caio e giovanni francesco no siamo rimasti in due quindi se volete seguirmi ancora vedete voi o per i nuovi cc facebook academy m r a caum in italiano oppure academy m r a riccardo villanova in inglese che anche la mia pagina c'è italiano e inglese poi c'è instagram in inglese academy punto m r a instagram italiano academy m r a punto it che poi c'è tik tok academy m r a ci sono delle piccole cose che sono mandate perché interessato come novità del social ci sarà un podcast disponibile su differenti piattaforme tra cui anche spotify quindi cominceremo dove metterò anche su spotify i miei libri c'è pratica farò anche degli audiobook ne parliamo troppo dei miei libri con la mia voce in maniera che siamo vicini ma tra un po vi dico in modo che non questa confusione che c'è oggi e sarete sicuri che non è la voce della i io sempre io che non muoio io poi la casa principale della scienza monia rimane era e rimarrà il sito il sito www.academymra.com mi sto dando queste direzioni così sapete la direzione e poi parliamo di tutto e lì saranno aggiunti contenuti inediti per gli iscritti 3 euro e 99 al mese per chi fosse interessato a la cosa importante sapere questa perché poi mi trovo thank you yes yes more more in english because starting this for the for suggestion of the order ok stati in english match content è necessario impararsi ai need of learning english and iron in english for ui a tip nai e speri complicate a maria ok andiamo avanti attenzione la cosa importante da sapere per chi si iscrive se si vuole iscrivere e che una volta realizzata l'iscrizione essa continua automaticamente non è che vi sto rubando i soldi con manoscritto alcune persone tra ieri 90 bloccandomi conti quindi per cancellarla si entra nel profilo personale e si cancella facilmente se non la volete più entratene cancellate non mandatemi la cosa della banca è bloccato e domani per carità do tutto però signori miei automaticamente continua e così ninguno va poi la cancella è facilissimo molte persone hanno detto che non sanno cosa fare da dove cominciare e quindi vogliono curriculum e cose varie per questo mi concentrerò a ridare l'insegnamento di base cominciando dalle tre vie principali della scienza moglie l'alchimia grande la magia trasmutatoria e la deprogrammazione dell'anima ma con sempre quelli precedenti ma anche una specie di giro di spirale maggiore un attimo una specie di giro quindi così per i nuovi sarà fortuna diciamo per i vecchi avranno che hanno già fatto avranno molte più informazioni quindi è stato dato la possibilità di poterlo fare un attimo ok quindi magliettoria dell'anima oltre ci sarà una concentrazione maggiore sull'astrologia per la pratica bisogna allargarsi e ci saranno sia gli insegnamenti di prima che il nuovo corso annuale che dovrebbe iniziare a dicembre massimo gennaio la sacra e antica conoscenza delle stelle dei soli nella cosa di astrologia esoterica che va a toccare la romantica l'astrosofia e l'astronomia come l'ho detto precedentemente poi e quindi astronomia astrologia astronomia e astrosofia sacra il corso comincerà il prossimo mese o a gennaio e quindi o chi interessato che scriva al cancelliere che sono cose che mi sono arrivate dall'ordine che sto leggendo ecco perché solito le ragioni scritte c'era anche io quindi la mia è quella tutta la casa il sito poi da lì poi oltre ci sarà una concentrazione aveva fatto poi c'è ci saranno ancora seminari però queste volte si concentreranno di più su tutte le basi presenti nei corsi così ci sarà il corso i seminari di approfondimento seminari di focus su qualcosa che ne so abbiamo parlato della deprogrammazione dell'anima immaginiamo che abbiamo che siamo programmati nel cuore andiamo e abbiamo dato le lezioni poi si va a fare il seminario giusto se un interessato lo fa se non ho sempre prezzi giusti giustamente che spiega come fare un focus maggiore come andare a chi è interessato un pochino come all'università con una delle previ scrive era meglio no quindi è come dire una cosa speciale va bene poi certamente sarà fatto anche qualcosa a parte se interessa o meno perché ho perso troppo tempo in questa cosa devo fare una direzione una conoscenza tra l'altro cambieranno anche le immagini delle mie comunicazioni torneranno all'antico sono immagini antiche di alchimia di magia di tutto ciò che è la tradizione tutta sta cosa legata alle cose moderne fiori aquiloni e cose varie non ci sono perché non è la strada che io indico non è lì a noi io sono antico io do la tradizione l'antica se non siete interessati a dati a 580 ma si scrive new age oppure che ne so tutte le cose possibili scrivetene tranquillamente andate bene qui si parla di cose antiche millenarie eterne che dopo questa stupidaggine che sta accadendo oggi c'è nel mondo perché c'è il cambio di epoca dai pesce all'acquario quindi ci sono le confusione sempre quella rimane perché qui c'è l'ars per ennis ognuno si affaccia la sua strada o chiaro io sono diverso sono l'unico rimasto della monia giovane 60 anni allegria vediamo di formare le cose come si deve quindi sono l'unico rimasto ma sono antico non mi piace cioè rinnovarmi non sono un progressista semplicemente perché essere progressi significa stravolgere gli insegnamenti millenari che hanno sempre funzionato e funzionano e su chi mi è vicino oppure le fa e non resta quindi se ognuno vuole essere progressista se ne va progressista significa prendere qualcuno che prende idee vecchie tipo le costellazioni familiari che sono legati invece altre tecniche astrologiche li chiama costellazione familiare progressista è uno che prende tecniche di concentrazione mentale della magia visualizzazione così via li chiama neuro programmazione linguistica queste sono le cose oppure li chiama con tutti i nomi possibili ok io non faccio questo viene da messa che studia a chimia antica magia antica quindi quella funziona deprogrammazione dell'anima che è la purificazione l'unica cosa che io ho modificato quindi dei pro perché è bello capire che purificazione è molto mistica non è mistica la purificazione tecnica e quindi deprogrammarsi ok mettiamoci le cose in chiaro così ripeto a me non mi interessa se si chiederci 5.100 se vedete tra un po che sono 100 va benissimo avete fatto la vostra scelta allora e non sarà più dolce come prima perché la dolcezza portano equilibrato giusto come quando ero all'interno dell'ordine con coloro a cui insegnava un pochino più come ero prima all'inizio potessere dolce va bene se è severo nel senso che voglio vedere i risultati questo è attenzione poi ci saranno ancora seminari e che l'ho fatto il grande presente cose oltre le altre vie ci saranno anche le altre cose disponibili tarocchi ma in maniera particolare non solo i tarocchi li apriamo veramente giù per esempio chi conosce la lettura di tarocchi scoperti nessuno solamente io l'ho detto perché perché quella è la vera lettura quindi come si fa e si va a fare geometria sacra e da lì impareremo le macchine le macchine spirituali antiche di cui le chiese gotiche ne sono un esempio macchina spirituale di cui ne parla anche furcanelli è una cosa costruito in un certo punto particolare come per esempio il torah glastonsbury la catena di chartre noto e dam chart o da altri posti in cui una persona entrava e per linee che ci sono geometriche linee che ci sono biometriche biologiche cosa riportano una persona senza il suo volere a elevarsi spiritualmente perché lo toccano magneticamente per quanto riguarda la il suo corpo e terrico che poi c'è scienza della volontà e magia bruniana la magia bruniana e tutto bruno venne messo al rogo proprio perché diceva le cose cioè quindi dai legami dalla capacità di generarsi un proprio universo un proprio mondo e li andremo poi da parte sempre della moglie si farà una chiara distinzione tra l'academy e l'ordine della fenicea o da oggi in poi prima di poter entrare nell'ordine molti hanno chiesto ma io non posso accettare serve imparare le basi degli insegnamenti dell'academy perché poi nell'ordine c'è alchimi astrologia astro sofia astronomia sacra c'è spagiria magia rituale magia talismanica magia trasmutatoria magia dei sogni teurgia dei sogni taumaturgia devo continuare andata da vedere le cose che ci sono quindi uno almeno deve fare un po di pratica di queste cose poi tutti i membri dell'academy saranno seguiti dal cancelliere mentre e quindi del cancelliere con la mia supervisione mentre io seguirò gli studenti della op ci sono anche per quelli dell'academy per allargarmi a leggere mio poi lavoro ma l'avete va beh dai tiriamo la mano ci mettiamo a smalù per darci una sede fa tutto come facevo prima ma lo faccio lo stesso io osservo non c'è cosa che il cancelliere non mi manda prima di dare risposta mi fa vedere ed è possibile ok ma so che la cosa è così quindi state calmi sereni sarete tutti seguiti tutti avrete risposta alle domande da oggi in poi chi farà i corsi dell'academy avranno precedenza e priorità sulle richieste di entrare più profondità mente nella conoscenza dell'ordine nella op eccetera novità editoriali tutti i libri saranno disponibili su amazon in tutti i formati copertina flessibile copertina rigida ebook dal prossimo mese i libri saranno disponibili anche sullo store ufficiale academy mra sul sito e saranno fatte delle edizioni anche audio ebook book con la mia voce ossia letti da me personalmente non da altra gente come ho visto fare o voci tecniche elettroniche per essere più vicino a voi nella trasmissione della conoscenza in quanto la voce è magica e la voce con inflessioni tono e forze di emissione trasmette il verbo il logos entra nel cuore e quindi muta e riesce a formare l'anima che è intenzionata a essere formata all'inizio prima di volare poi libera nei cieli della strada del sottile che dopo tra termini questa cosa qui dell'onare ogni mese da dicembre poi uscirà un libro mio di tutte le uscite di uscirà sempre in più novità esclusiva una cosa finalmente fatta una cosa grande perché ci stiamo lavorando da molto tempo e vivian ci devono da molto tempo è veramente un libro straordinario io ho fatto i complimenti come mai in vita mia e siamo insieme da 42 anni va 42 il libro di vivian del lago uscirà a dicembre adesso 7 8 10 e saranno pochissime copie in formato deluxe costerà un po di più mai deluxe è possibile fare il pre order adesso e la spedizione del libro sarà fatta a dicembre prima di natale le copie sono limitate poi ci sarà quelle su amazon normale edizione limitate guardate che poi verrà pubblicato il video qui sopra un libro straordinario sulla mestruazione sul sangue femminile sulle capacità femminile sulla magia femminile sulla grande capacità della donna sulla vera donna non quello che ci stanno mostrando adesso perché vivian può scrivere queste cose perché a fianco a me sempre stata pari mia siamo sempre identici uguali ha vissuto nella tranquillità nella serenità si è discusso si è sempre stati pari in ogni decisione in ogni discussione in ogni cosa come normalmente dovrebbe essere la donna non non è ciò che oggi stanno tentando di far passare vivian parla di tradizioni antiche come io parla di tradizioni veramente antiche e spiega tanti di quelle tecniche ma si esigura tecniche femminili che possono leggere anche gli uomini chiaramente però è femminile è qualcosa di straordinario leggetelo veramente ma veramente non perché mia moglie le mie compagni alla vita mia soror da pratica è veramente straordinario va bene lo di con tutto il cuore è veramente straordinario quindi ci ha messo tanto tempo quasi due anni per farlo immaginate un po ci sono le immagini fatte appositamente lo vedremo se siete interessati per gli uomini va anche bene perché l'uomo ha il ciclo mestruale ma lo ha nel lunare ok e quindi è una cosa diversa ma per le donne e per gli uomini serve per capire le donne per capire i loro bisogni i loro problemi per capire quando hanno questa cosa sacra come la mestruazione come trattarle come entrarci in contatto come amarle come aiutarle come esseri pari non c'è nessuno superiore un atto superiore matriarcato patriarca pari il mondo deve essere pari qui vedrete la prima trasmissione ancora più alta sacerdotale di una vera sacerdotessa ok io penso di poi vedete ora parliamo di noi allora l'alchimia grande perché ho voluto parlare dell'alchimia grande perché ricominciando i corsi ma ripeto è fortunato chi comincia adesso perché avrà qualcosa di più chi già ha conosciuto prima avrà una spirale ancora in più mi è stato detto da un allievo abbastanza 45 anni e prima insegnava in maniera molto più dura e cose varie però c'è l'alchimia può ricominciare di così si arriverà il momento ed è arrivato in maniera più larga l'alchimia grande è divisa in quattro tomi 4 ossia l'alchimia minerale metallica quindi fisica l'alchimia vegetale quindi va a toccare anche il corpo lunare tocca tutto il corpo fisico con tutto come c'è dentro poi c'è l'alchimia aerea e poi c'è l'alchimia magnetica o alchimia del fuoco questi qua vanno ad accomunarsi direttamente ai regni della natura l'ultima alchimia quindi abbiamo il regno materiale il regno vegetale il regno animale il regno dell'uomo quindi che vanno poi un pochino ad avvicinarsi ne abbiamo le quattro alchimie ma quattro modi di azione particolare basta andare sul sito e tra le fare di iscrizione fai parte dell'academy e lì sarete seguiti su quello che c'è lì quindi da asma sotto la mia supervisione non posso far tutto quando ho cominciato avevo i 50 anni riusciva a far tutto anche a viaggiare con la macchina avanti indietro adesso sono 60 quindi mi hanno messo qualcuno a fianco che in questa maniera va bene ripeto ancora con tutti il rispetto di chi mi ha aiutato prima che poi hanno fatto un buonissimo lavoro ma che ora deve tornare un pochino indietro alle basi alle fondamenta antiche nelle immagini nelle come vedrete nelle idee nello scritto e nel tutto perché è importante che si riporti la tradizione l'ortodossia dell'ammonia sono si perde si perde diluita in tutto quello che attualmente si può vedere in giro quindi grazie a tutti i miei precedenti collaboratori con tutto il cuore con tutto il mio cuore sarò sempre pronto anche essendo neanche maestro di queste persone quindi questo non cambia qua si va insieme si continua però l'ordine adesso ha deciso di tornare un po l'ortodossia poi ah sì anch'io sono asido però mi sono stancato un pochino anche tu ti ricordi quando andavo su e giù su e giù su e giù mi sono un pochino più più stanco perché credi mi è più facile fare un lavoro magari no un pochino io li chiamo più leggeri fisici che quelli psichici quelli psichici ti mangiano veramente ma penso che tu sai perché fai un lavoro di aiuto straordinario quindi penso che mi capisci quindi allora torniamo a noi abbiamo queste quattro grandi divisioni dell'alchimia grande che nessuno altro ha perché noi possiamo andare a vedere perché si chiama alchimia grande le varie tipologie di ispirazione insegnamento alchemico per esempio il primo libro le notti alchemiche che ormai ho visto che hanno anche donato lo trovi lo si scarico però mi fa piacere alla fine va a collocarsi nel quarto in quella che è alchimia alto umana e molto magnetica se vogliamo che poi va a collegarsi a quello che sarà il ritiro prossimo ritiro l'incontro prossimo a in italia si sarà appunto questo incontro prossimo a per gli stranieri sarà è stato mi è stato detto c'è un attimo lo leggo per quanto riguarda gli stranieri siccome gli internazionali hanno chiesto anche di far parte del ritiro è però come e per italiani dovrei fare una doppia lingua però per gli stranieri è stato pensato un ritiro a berlino dove spesso di vicino abbiamo una sede e quindi a berlino e chi quindi tutti coloro che sono di lingua straniera possono venire a un incontro a berlino alla fine del del c di marzo inizio di aprile verrà detto tra poco aspettando le notizie da bernardo c'è la sede principale dell'ordine che mi dicono dove è stato quindi coloro che si erano iscritti per venire a roma consiglio di venire lì perché farò il l'incontro in inglese sono stato reputato poi c'è anche c'è mio figlio quindi vicino eventualmente se qualche parola mi sfugge sarà perfetto in inglese che studia università in inglese mi dà una mano quindi sarà fatto in inglese quindi lo dico quindi così evito questa difficoltà perché questa cosa è nata di così verranno anche degli americani verranno cose varie in roma e vabbè come facciamo lì prendo un traduttore no si perde quindi non vogliono neanche traduttore lo devi dire tu allora ne facciamo un altro invece di venire l'arma nell'altra parte bene e questi passaggi perché mi che sono in alchimia alta c'è tutto là dentro nascosto ma c'è chi ci arriverà fortunato quindi ci sarà le date già dette per quanto riguarda roma e poi sto provando se non troverò molti riscontri lo posso spostare vedremo di farne uno direttamente e quello doveva fare emozioni di farlo per gli internazionali e quindi chi è interessato americani inglesi che sono di manoscritto che vogliono venire canadesi una persona dall'africa persone spagnoli e cose varie se conoscono l'inglese di venire direttamente lì a berlino e quindi dove è stato deciso di fare questa cosa per gli internazionali e lo facciamo va bene quindi mi riposerò un po e poi andrò direttamente lì però ne parleremo ancora avrete delle indicazioni e qui io sia a roma sia a berlino sia per gli italiani che per gli internazionali io parlerò appunto proprio dell'alchimia grande ma però dell'alchimia alta magnetica dell'alchimia della pietra magnetica che va a connettersi anche con le notti alchemiche quindi andando a prendere dei paragrafi e facendo vedere proprio come cosa veramente volete e quindi si va a praticare quindi è importante chi decide e non ha mai fatto questo che almeno faccio una lezione 2 di alchimia vegetale prendete la direttamente sullo store vedetevela imparate la almeno per imparare le basi e quindi poi poter fare le cose in una maniera ecco le date sono arrivati appunto dal 29 31 c'è appunto e best c'è a berlino va bene quindi questo è che quindi andiamo veramente a fare un salto in più perché perché le cose stanno peggiorando in europa perché i grandi ricchi inglesi i grandi ricchi americani grandi ricchi anche europei del continente stanno acquistando tanti appezzamenti di terreni in patagonia o parti molto lontane perché sanno che prima o poi il popolo si genera specialmente in america sono tutti armati e quindi sanno che succederà una specie di rivoluzione perché accadrà che non puoi stringere 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 e quindi si stanno preparando a muoversi bene che possiamo fare noi noi possiamo tranquillamente prepararci invece a fare senza di loro lo dissi tanti anni fa mentre ero ancora a budapest ossia perché queste persone hanno direttamente il potere di generare hanno in mano le costituzioni fisiche hanno in mano tutte le industrie le varie cose quindi ma se tanta gente i super ricchi proprio si stanno comprando appezzamenti di terreno da altre parti per andare via da londra da parigi da roma da milano da new york e da washington questo gruppo che sta strangolando il mondo bene poi si rimarrà penso un po no ci vediamo l'attacco fatto al cuore dell'europa la guerra che ancora c'è in ucraina è un attacco fatto al cuore dell'europa per deindustrializzare impoverire tutto e si vede quindi è così accadrà anche quella cosa ancora precedente si è un depurge quindi stanno cominciando a capire che per capire che quali è l'intenzione di questa gente leggetevi e leggetevi guardatevi il film elisium li avevano già detto questo film viene spiegato abbastanza bene che cosa è l'intenzione però non con il lieto fine quindi noi cosa possiamo fare ne parlai anni fa imparare a fare le cose da noi quindi imparare sia le nostre cure in perché chiaro che se c'è un'industria molto grande farmaceutica che fa tutte le cose che possiamo pensare se ci sarà ci sarà un problema da diecimila pezzi di qualcosa ne farà mille ne farà 300 di che succede bisogna imparare a fare ciò che è nelle nostre capacità anche per auto guarirci ed è facile ma usando cose normali usando le cose che abbiamo direttamente nell'orto in cucina si può guarire si può dire tutto lasciamo stare su uno chat morica non siamo stare che ne sono cose però belle cose sono cose diverse ma le sono cose che ne so l'influenza e raffreddore il mal di gole il mal d'orecchio si può fare per la parte fisica ma noi ciò che ci interessa quindi quello si può imparare con i corsi di vegetale ciò che ci interessa è riuscire a uscire fuori dal corpo fisico e vedere che cosa c'è la è lì che punta puntano le due no i due incontri a roma ea berlino del prossimo anno proprio per far capire alle persone guarda che non sei solo questo sei quello è questo l'alchimia magnetica umana che tratteggiata velocemente nelle notti alchemiche lì è descritto yes alchemy retreat in berlin for the international people okay only in english in explain it for me and with helping my son that is perfect in english okay and in this place is a present order my and loving disciple that helping me okay if you want can i stay in berlin ok ok quindi questo è molto importante da capire dobbiamo capire come non c'è solo questo corpo la tecnica data lì ci saranno sia cose tecniche da fare che prenderanno sia metalli che c'è l'unione attenzione sia metalli sia minerali sia vegetali sia delle componenti animali nessun animale ucciso assolutamente saranno delle delle cose già presenti c'è sul mercato niente sangue niente queste cose qua saranno cose particolari per andare ad aiutare la persona sia con umane personale il magnetismo questo porterà a toccare completamente l'involto umano e a renderlo più attivo per quel momento per far vedere quest'aumento di vibrazione per vedere l'altra parte che attualmente a noi ci è preclusa quando chiudiamo gli occhi non vediamo niente pure dormiamo non vediamo niente ok quindi così poi uno lo rifà ecco perché dico chi viene non ci saranno due telefoni perché danno problemi alla tecnica magnetica cioè io stesso avrò soltanto ci sarà soltanto la camera che riprenderà il collegamento zoom seco qualcuno che purtroppo ci sono alcuni che non possono muoversi per la questione di salute fisica e quindi sono pochi mi dispiace il mio cuore però almeno quello non abriamo direttamente sì a roma sarà l'unico incontro che mi hanno permesso di fare ok quindi facciamo questa cosa qua imparate vedete sto tentando di trovare una sala in modo che io posso essere al centro e vi mettete intorno in modo che possa perché potete no io la stanno cercando io non mi occupo di queste cose non mi compito l'ordine quindi in modo che non sia lontani perché bisogna vedere il processo bisogna vedere le lavorazioni no come si vengono devono fare le magnetizzazioni e tutto quello che serve per poter poi elaborare e quindi avere l'effetto come detto l'alchimia non è come la magia la magia è dello stesso livello ma che fare più con l'anima umana e quindi uno deve avere un addestramento differente l'alchimia e quindi ci vuole un più tempo l'alchimia funziona subito perché perché come sempre ho detto se andate a leggere a leggere i miei libri o vedere i miei video si è come una specie di bottiglia di whisky te la bevi ti ubriaca ogni caso puoi essere pure santo un maso d'aquino e ribevi un bottiglione di whisky di ubriachi puoi essere pure gesù con tutto il rispetto per gesù ma anche buddha come insegnano i maestri zen per esempio o taoisti no che molto spesso sono lì a bere fanno vedere che bevono si ubriacano e anche se sono maestri non fanno apposta per altri motivi per quanto riguarda le applicazioni da fare incidenti ritiro si possono utilizzare quelli sì quelli nel libro no io consiglio quelli che ci sono utilizzate quello perché c'è un errore attenzione che quello vanno bene quelli del libro se volete ancora quanto riguarda le purificazioni per il cibo usate invece quello che c'è in eno però quelli sì attenzione che c'è un errore nelle nostre alchimiche non so se l'hanno se l'hanno corretto sui fosfati attenzione perché spero che l'hanno corretto nell'altra edizione questo è un errore che mi ero portato dalla precedente casa editrice e quindi occhio quando leggete fosfato eccetera eccetera o cloruri cose varie sto cercando adesso di sapere di sapere se è stato corretto se no bisogna cambiare sì ecco lì quando si parla di questo si parla del sale amaro è quando si parla di questo si sale inglese se quello lì hanno sbagliato io intendevo di sale inglese sale amaro sale inglese ok non l'attenzione perché se ci tengo a questa cosa ok epsons a 10 quindi queste è molto importante allora quindi quello va bene per non riguarda il corpo per prepararlo a l'urto perché ripeto e infatti 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 diana che infatti meno male e spero che l'hanno corretto poi perché poi non ho più guardato ma uno svista della del correttore di bozze che non lo conosceva non è che l'ho scritto io insomma questo non lo conosco forse voleva dire questa te lo correzza perché non hai chiesto dimmelo no e quindi poi rimase ok meno male che non sono accorto dopo meno male che nessuno ha fatto mi scrivevano ma così e così no e sala mare il sale inglese lepsons at quello attenzione mi raccomando non esagerate chiaramente purificatevi così se possibile prima di venire fa bevete tanta acqua non bevete tanti alcolici se potete non fate eccessivamente una vita eccessivamente se andate fuori a mangiare coso cose sì mi viene detto però dopo il nome si capiva cose possono intossicarvi non mangiate non mi sto dicendo di non mangiare carne ma in questi casi è meglio evitare per i carnivori evitare almeno per quei tre giorni no di di mangiarla perché così sia più effetto non è che blocca le c'è che lo blocca lo rende un pochino più leggero perché devo tentare di allentare i vincoli corpo fisico corpo lunare mangiare carne cose varie lo lo rende c'è forte e serve per chi è necessario però se vogliamo allentare un po per quei tre giorni avere l'effetto vediamo di non fare troppo sesso di non mangiare cose strane di non andare troppo a divertirsi distanzialmente l'effetto non viene ok perché il lunare lo sporcate con qualsiasi cosa e qui è in tema appunto nei quattro livelli dell'alchimia e notate che potete sporcare il vostro corpo con l'alchimia minerale metallica le cose che mangiate chi ha la la le analisi dei metalli nel sangue li porti è importante che siate in buona salute a livello di come si chiama il sistema nervoso perché abbiamo a che fare col magnetismo non so se siete entrati delle volte in qualche supermercato cose varie c'è magari in un posto una cosa magnetica molto forte uno si sente un pochino strano si sente bene abbiamo a che fare con una cosa simile anche se indotta non in quella maniera ma in maniera alchemica ok quindi questo può dare un pochino di alterazione quindi dovete essere tranquilli c'è stabili se possibile distanti da esaurimenti nervosi poi sono nervosa va bene in quanto che non ci sia esaurimento è importante non se qualcuno prende droghe mi dispiace non può venire gli alcolisti non possono venire perché avrebbero un effetto molto potente se prendete farmaci potete prenderli non c'è nessun problema di quello la stemia mai fumato ottimo ne sto tentando di ottimo è così ok benissimo questo è ottimo ok perché è voglio sto provando a dare uno dei gradi maggiori nel senso la pietra magnetica quindi sarebbe la pietra di secondo grado che dà la spinta proprio una un colpo fa no quindi almeno per vedere questa cosa ecco perché c'è bisogno di tranquillità equilibrio serenità eccetera 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 ok quindi noi andiamo a fare questo e faremo una pratica lì impareremo l'alchimia metallica e quello che serve minerale poi passeremo e poi le intreccieremo a quella vegetale i quattro livelli poi la coniugheremo con quella aerea e poi la uniremo con quella magnetica e non solo quindi noi avremo lì l'unione nell'alchimia grande dei quattro ne abbiamo tutte quattro li metteremo per creare una quintessenza di alchimia e da lì alchimia grande modo che da queste quattro viene fuori questa quintessenza che è il corpo umano perché se è il corpo se il corpo fisico viene addestrato e lavorato nell'istante quindi sia dal minerale o metallico dal vegetale dall'aereo e dal magnetico fuoco quindi noi abbiamo l'unione dei regni di natura e abbiamo il mercurio il migliore mercurio così viene insegnato abbiamo il mercurio che sta ad indicare la attenzione che possono pensare che sto dicendo gesti satanisti non è un gesto satanista quello che c'è in giro ora se c'è direttamente ogni tanto per vedere la mia parte alle grece fuori quindi indica la quintessenza e quindi noi abbiamo l'uscita questo indica l'uscita del corpo una riuscita è una visione un'azione ma la con l'incontrovertibile prova che c'è qualcosa oltre il fisico io che sono a contatto con la mamma che non sta tanto bene conoscendo le situazioni permesso certamente mica stai male tu mica stai male tu tante io parlo di gente che sta male per esempio gente che prende antidepressivi alla grande me lo dica no prima è importante così quindi quindi sappiate che quando venite nessuno potrà registrare avrete dopo perché interferiscono i tegelati deve essere spenti sarà spento pure il mio era spento quindi tranne c'è mio figlio che sarà debutato un po più quella a 1 per andarsi da secco succede qualcosa di strano saremo possibilmente vedremo di essere intorno per vedere e vedrò di di farvi proprio toccare con mano la vera arte alchemica della 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 scienza ammonia che io ho cominciato a imparare con il mio maestro al mio paese forse qualcuno ha visto ha mostrato anche il posto dove era delle volte ma adesso è tutto dirò cavolo l'ho imparata toccandola va bene quindi poi quando sarà la cosa più più sicura noi andiamo direttamente c'è vi consiglio di portarvi qualche mascherina più che altro quando vengono lavorate le cose metalliche e e minerali ma non le mascherina gioco che ci hanno detto per farci spendere soldi per quanto riguarda quella cosa che è successo qualche tempo fa una vera mascherina che possa no filtrare veramente quindi portate basta questo una mascherina per forza infatti quindi quando si opera il meglio togliere i bracciali di rame quando si opera bisognerebbe operare nudi c'è nel senso che spogli tutto ti fai una doccia ti pulisci ti togli tutto ti metti un vestito solo per quello poi sarà nato unica può essere una tuta a questo quello che vuoi e o per tutto ma il corpo che esce mentre si dorme la cosiddetta o be e proiezione strano quella è una proiezione eterica quando uno dice ma pensavo di essere morto vedo quelle proiezionati le proiezioni astrali la vera immortalità quando leggete i libri di morro i libri di sylvan muldon e cose sono tutte proiezioni eteriche ma l'eterico prima o poi quando il cadavere muore finisce ok poi o quindi noi faremo questa cosa qua impareremo modo che poi di farete sarete pronti a eventuali problemi che possono avvenire dopo in questo periodo io proprio oggi proprio oggi ho detto ma chi me l'ha fatto fare a avvenire in questo periodo che c'è un periodo di caos e di controinformazione fatta apposta per fare in modo che si evitino se non si capiscono queste informazioni che io sto dando dice di tutto c'è quindi chiama così contro informazione c'è pratica quando vuoi bloccare qualcuno che sta parlando di qualcosa di interessante fai tan metti tante altre gente stupida ignorante che parla della stessa cosa però in tante cose maniere uno non sa più che cosa buongiorno a tutti che cosa sta dicendo chi è la verità o meno e questa la tecnica io sto dicendo la verità venite per provare oppure provate su di voi le cose che ho già dato ok quindi questo è molto importante sapere che andiamo a praticare per avere un impatto su sulle cellule e sul nostro dna un impatto direttamente sul corpo lunare che il nostro corpo che non è eterico per vedere il corpo eterico potete mettere la mano di fronte a una cosa scura guardare e vedere sfocare leggermente vedere intorno qualcosa oppure fare in questa maniera e vedere quei filamenti o intorno alla persona quelle corpo eterico cosa stai non si può vedere a meno che non sia molto alto io parlo dell'altro quindi ok molto spesso quando viene c'è sepolto qualcuno oppure che appena morto qualcuno molto spesso si pensano che è stata vista l'anima che se ne va in dei filmatico di quelli del corpo eterico a volte ho visto su youtube delle cose simili che c'era e poi qualcosa che si innalza da quelle il corpo eterico non è il corpo astrale ossia il corpo lunare che invisibile ed è un corpo molto legato a la mente immaginante quindi come tu non vedi l'immagine immaginazione di un uomo così non vedi il corpo esattamente cosa si intende per coagulazione del corpo lunare nell'ultima live lei disse che del suo sì e questo qui coagulazione del corpo lunare è riuscire a avere la piena questo il termine coagulazione la piena coscienza di uno stato dello stato immediatamente dopo quello fisico che è simile allo stato di sogno simile allo stato di pensiero simile allo stato di immaginazione no simile tensione e quindi è dove gli antichi dicevano andavano le anime in attesa di tornare coagulandolo tu puoi ossia essendone cosciente delle coagulazioni da quello è in attesa tu arrivi entri in questo stato ma ne sei cosciente non sei incosciente per esempio come quando dormi o come quando muori ci sono tante descrizioni di questo stato ed è un mondo diverso in un mondo enorme infinito e in molte tradizioni dal libro dei morti egizio ai libri al libro dei morti tibetano e ad altre istruzioni alle anime che si possono trovare per esempio anche nelle delle esigazioni di per esempio orfiche oppure anche ebraiche oppure zoroastriane in cui si dice ora che sei entrato qui guarda a sinistra a sinistra c'è questo e indica proprio lì la geografia di un mondo che non è visibile a noi ma che esiste nella tradizione celtica viene chiamata il mondo delle fate viene chiamato no viene chiamato le fate il mondo di artù il mondo quindi un mondo c'è diverso dal nostro e da premettere che è la stessa e la stessa cosa c'è un mondo che è presente anche nella nostra vita di tutti i giorni sono lucido e la fase in mezzo lo stato sì il sogno lucido e fase in mezzo fisico lunare difatti molte persone ne sono lucido hanno delle azioni ma non sono nel una non sono dall'altra parte sono a metà tra una parte e l'altra in pratica il problema è che la coscienza del corpo fisico che vuole andare nel lunare rimane attaccata al corpo fisico e quindi cosa fa si muove il corpo eterico potete capire queste cose andando a leggere per esempio i miei viaggi fuori dal corpo di robert monroe questo quelli sono tutti i viaggi eterici e questo è pericoloso perché con il viaggio eterico sono luci del corpo sembra come morto il viaggio lunare non è così il viaggio a vero lunare il co tu hai tu rimane la coscienza del corpo tu hai la coscienza in due mondi in modo che tu puoi dominare e controllare i due mondi e non essere schiavo una cosa eterica e il medium che perde coscienza la cosa magica superiore è che tu sei qui e lì esposti volontariamente le cose da una parte all'altra come dico sempre due piedi c'è questo in due mondi si farà poi ho comprato il libro tibetano del monte circa vent'anni ne riesco a leggere una pagina intanto ma comunque mi attrae sì però a noi non ci interessa più di altro se ci ci interessa qualcosa di nostro quindi proprio per dire che è così però è vero cosa si può fare per essere seguiti più nel particolare entra nell'academy parla con asma rule vedi le cose che devi fare ma ci sono anch'io ci sono e poi poi dipende l'età facciamo un esempio c'è uno giovane che si iscriva nell'academy e vuole entrare nell'opera essere più a fondo sei giovani guarda fai un po di pratica se uno c'ha già una certa età si vede già diversamente ci si calcola e si vede caso per caso però l'academy importante perché sono tante tecniche dato tante cose vengono fatte si entra si comincia a diventare un po pratici un pochino l'esterno del tempio se vogliamo io devo riparlare di queste cose anche se ho provato ad essere un pochino più come si dice più alternativo ma devo parlare di cose tradizionali antiche l'esterno del tempio prima di entrarci poi se mangio vegetariano mi capito di uscire terico ma dopo paura mi sveglio e si dà dei penditi che devi avere paura non si muore cede solo puoi aver paura di eventuali simili natura e cioè entità non positive che purtroppo si incontrano lo vede anche leggetelo anche nel libro di roger monroe di tanti anni di robert mollet morro e tanti anni e ha bisogno di sapere se devo seguire un ordine per studiare i libri e i vari seminari è una tua scelta se vuoi allora ho tempo detto una cosa per tutti ci sono i libri e ci sono le cose che faccio online chi vuole entrare più a fondo entra nell'academy e va più a fondo chi vuole andare ancora più a fondo entro nella opera ci sono date delle cose ad hoc quindi ognuno è libero quindi di sentire quello che vuole un saluto a te massimo quindi il corpo lunare un ponte fa il corpo eterico legata al fisico il corpo astrale le collegate al mercuriale allora dobbiamo capirci il corpo astrale e colpa mia sicuramente ora rispondo poi all'altro cosiddetto per i spiriti di spiriti quello lì è il corpo si del kramer quello lì è il corpo eterico per i spiriti no il peri spirito e il corpo eterico quindi andiamo sono due domande giuste allora abbiamo corpo fisico corpo saturno il corpo saturno dopo di lui c'è il corpo lunare dopo c'è il corpo mercuriale il corpo solare parliamo di nostre cose di nostre nostre costano e pitagoriche italiche cosa succede benissimo allora scrivi lì adesso sta cominciando un'altra stiamo cominciando a fare no e da oggi cambiano le cose quindi vedrai che le cose così sei direzionata un attimo fatemi rispondi è importante cosa non potete capire neanche l'alchimia l'alchimia e saturnia corpo saturno lunare corpo lunare quindi vegetale liquida e cose varie aerea mercuriale solare allora abbiamo il corpo saturno immaginate qui c'è il sole magnetismo puro qui c'è la controparte del sole il cosiddetto corpo fisico saturno sole nero questi due si attraggono immaginate che sono uno si aprono allungando allungandosi si separano ma il saturnio tira fuori dalla parte alta una specie di di qualcosa quello il corpo il corpo mercuriale lo sfila il solare sfila dal saturnio qualcosa di più sottile quelle corpo eterico quindi e abbiamo di là i quattro porti l'unione di lunare e mercuriale diventa il corpo astrale perché astra perché è legato e dominato agli astri che quindi saturnio poi c'è un cuscinetto questo si vede tra il saturnio e il lunare che il e l'eterico quindi è legato al corpo fisico e lo vedete intorno come aura quando dice sto vedendo laurea non sta vedendo il lunare tenendo il cicleterico quindi c'è corpo fisico ossia saturnio un cuscinetto che è la vita biologica se voi fate quando si fanno le foto per esempio delle vedete di kirlian o vedete per esempio di spermatozoi che si muovono con una certa luce quello è l'eterico e la vita quella è la vita proprio questa questa vita collega il corpo fisico al corpo lunare che il corpo del sentimento delle immagini e delle emozioni ok e quindi c'è questa questo cuscinetto che questo acquisti qui finisce quando un uomo e la vita è il respiro il prana chiamato come volete il chi ci si deve qua ma non è il corpo lunato volare più su rimane corpo lunare quando entri ma quando sali al mercuriale tu lo unisci e diventa corpo astrale da lì tu hai la possibilità come corpo astrale di andare verso il basso e diventa corpo lunare verso il basso ma se vai verso l'alto e corpo mercuriale e quindi è molto vicino all'intelligenza intellettuale suprema spero di aver spiegato questo lo vediamo anche in iode vawe 1 2 3 4 corpo solare corpo mercuriale corpo e lunare corpo fisico iode corpo solare e corpo mercuriale sfilato dal solare corpo mercuriale c'è c'è lunare che una copia di questo un punto più lungo e che è espirato ed è il corpo al corpo saturnia ben iscritto ed è quasi un anno nel sito ma anche youtube e quali indirizzo e ti è arrivato che si adesso stiamo ricominciando tutto e abbiate pazienza stiamo mettendo le cose in certa maniera non è colpa di nessuno ma è colpa mia che dovevo devo devo dare una certa linea poi con semplici meditazioni via tranquillo in pace con se stessi e limitazione alcalina si può coagulare il corpo no ci vogliono pratiche pratiche innanzitutto è uno o la preghiera ti fai la preghiera vai su vai su vai e quindi tranquilla cose varie o l'alchimia fai delle cose tecniche o fai la magia c'è ossia e usi le tecniche magiche e quella più semplice nella preghiera oppure la meditazione se portato la meditazione ti metti a meditare certo essere membri dell'academy delle carini viene detto dall'ordine non significa solo iscriversi al sito ma fare gli insegnamenti regolarmente quindi essere iscritti e basta non significa nulla se non fai nulla quindi sei iscritto ma fa bisogna fare qualche corso per imparare e ripeto ancora youtube all'esterno e con quel poco che costa tutti i libri le cose sono in generale a molte persone bastano ma se uno vuole cose più profonde entrano nell'academy e quindi fa fa dei corsi deve fare qualche cosa se non può impara e sta lì così non baci sarebbe inutile pure iscriversi poi no da lì si può andare oltre così vendere cose tutto riprendo tutto a capo come mi sono detto scienza della volontà ma a uno spirale a una spirale più alta quindi ci rileggo alchimia magia trasmuratoria deprogrammazione dell'anima la sacria antica conoscenza delle stelle dei soli quindi l'astrologia nuova astrologia astronomia fisica scienza della volontà tarocchi geometria sacra magia brumiana e quindi ripara così chiunque si può può andare dove deve andare se una persona con la preghiera la meditazione è una cosa che si può trovare un questi compi un del libro di preghiera sto scherzando la verità quel libro di preghiera se sei portata la meditazione cristiana c quella discorsiva c'è quella del cuore per esempio resi casmo e buono oppure uno può entrare in una scena mi imparare a meditare cose varie quindi la mia e tra video via tradizionale occidentale è un pochino differente no io parlo di occidente queste cose sono un pochino in generale attenzione che il cristianesimo non è via occidentale è un infusione infatti sta esplodendo sta implodendo come imploderà poi l'altra che è venuta qui e che pensa di di essere la padrona d'europa attenzione perché stanno attacca hanno attaccato la razza nostra hanno attaccato il maschio ma non per il maschio e parriarcati in attaccato per rompere la famiglia l'amore tra due esseri perché come c'è scritto qui in questo bellissimo libro di thomas baughan parlava proprio parla proprio che per conoscere l'alchimia e la realtà c'è bisogno della polarità maschio femmina o interna o esterna e di conseguenza lì si arriva se distruggi tutto e metti tutto così tutto così e così è semplice capirlo anche per una per una per una persona che non conosce l'iniziazione se io distingo le cose del discrimino posso arrivare da qualche parte se metto tutti insieme e faccio la zuppa fluida non so cosa sto mangiando non posso distinguere non arriverò da nessuna parte la verità è due polarità 1 e 2 e poi interne ci sono altre polarità che si sfilano che sono accettate ma bisogna che siano vere polarità non mischiandosi come coloro che stanno perdendo il potere stanno tentando di fare per fare caos distruggere la famiglia pare famiglia significa l'amore non significa famiglia io padre io di domino tutte le stupidaggini che stanno dicendo mentre invece proprio stupidaggini proprio guardatele perché sono tutte calcolate ogni omicidio ogni azione è tutto calcolato e fatto mediante la programmazione con diverse e prendono persone che sono sempre mezz'ora in bambini bene svegliatevi per fortesia poi quindi pensano gli americani direbbero americani direbbero i usi torlosi certo è così poi grazie mille si chiare questione dell'academy io sto seguendo il corso perfetto allora stai già pronto per fare eventualmente altro pensando ai cicli che ritorno ogni vittoria italia tennis torniamo agli anni e certo ha vinto quanti anni abbiamo vinto la tennis beh ci mancava sinner no però sinner è anche un allungamento di sin peccato ma stai sto scherzando ma sono contento avendo tanto tempo una volta le viste che tramite l'alchimia era rapida e da via mentre meditazione si beh non è che lo dico io poi lo disse anche uno come gurdjieff no voglio dire l'alchimia è una scienza che ha a che fare sui quattro piani dell'essere l'alchimia è simile ripeto a una bottiglia di di ripeto ancora di whisky la bevi puoi essere gesù di ubriachi significa che puoi usare qualcosa per viene chiamata la medicina medicina universalis buongiorno a te bene spero di essere stato chiaro le cose saranno come erano prima molto sono molto particolare non cattiveria sarà però molta serietà senza dare ho voluto essere un pochino più così più vedendo mi era stato suggerito di essere un pochino più alla mano però non è non si può essere amici per insegnare se si amici non si impara nulla non c'è l'autorialità che quello che stanno togliendo oggi per non per far diventare le persone stupide e senza insegnamento non si può essere così quindi se siete interessati anche a parlare hd e dovete scrivere a telegram pratica info sapienza ammonia info sapienza ammonia io da oggi torno sul mio scranno a chi li sta bene sta che non gli sta bene pensa dei veri maestri interiori avere come maestri youtube web non c'è problema sia fatta la vostra volontà ma io torno sullo scranno da cui ero sceso per essere un pochino più comunitario ma così non si impara nulla quindi oggi da oggi quindi torniamo alla vecchia maniera perché così si impara sul serio questo è il canale info sapienza ammonia per tutte le notifiche e tutto quello che che potete capire infio sapienza ammonia tutte le notifiche eccetera bene da prego si possono riprendere seminari certo che lo facciamo facciamo tutto e tutto lì facciamo quello degli seminari li andiamo a collegare queste sono collegati con la magia bruniana e sono collegati con i parocchi di li entreranno direttamente ripeto se avete problemi con la figura del padre volate via così se avete problemi bye bye io sarò qui un padre iniziatore dolce gentile paziente ma anche fermo e molto serio arrivederci